Il 12 e 13 febbraio in Lombardia si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della regione. Ma come si vota? Sulla scheda troverete i nomi dei vari candidati alla presidenza assieme alle liste che li supportano. Potete votare mettendo una X sul nome del candidato, su una lista che lo supporta, su entrambi, oppure esercitare il cosiddetto voto disgiunto, votando un candidato e contemporaneamente una lista che ne supporta un altro. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 di lunedì 13. Per votare dovete presentarvi al seggio con un documento di identità e con la tessera elettorale.